Uno spettacolo musicale chiuderà la stagione teatrale al Teatro Donna Fugate di Ragusa Ibla, col cantautore Mario Incudine, regia Monovadia, testi di Sabrina Pettix, che farà rivivere al repertorio più particolare di Domenico Modugno le sue canzoni in dialetto che hanno segnato l'inizio della carriera del noto cantante italiano. E sarà una rilettura con gli arrangiamenti dello stesso Incudine e la messa in scena di Giuseppe Cutino per immaggese in un repertorio in gran parte inesplorato di Mister Volare. Non a caso lo spettacolo si intitola Mimì, volere volare, descritto proprio da Mario Incudine, in cui gli arrangiamenti restituiscono tutto l'incanto di un mondo che resistitò proprio grazie alla voce di Medugno, divenuto in quella fase un vero e proprio cantastore di vicende popolari che altrimenti sarebbero andate perdute per sempre. E così Mario Incudine, come sempre sa fare, dovrebbe conquistare il pubblico del teatro di una fugata in questo doppio appuntamento che chiude la fortunata stagione teatrale, anche questa volta tutta sold out, realizzata con la direzione artistica di Vighe e Costanza di Quatt e l'apporto di Clorin d'Arezzo.